buonasera buonasera a tutti ben ritrovati con tutto sport questa sera abbiamo ben cinque ospiti in studio una puntata al femminile una puntata in rosa vi presentiamo subito le nostre ospiti sono le neocampionesse italiane di aerobica per la loro categoria ovviamente sono ecologo allenatrice virginia mazzolini buonasera virginia buonasera la vostra associazione si chiama movida di berbenno partiamo subito con le presentazioni partiamo dalla mia sinistra con martina giorgini buonasera martina poi abbiamo federica gusmerini con noi beatrice spagnolati buonasera che la più piccola del gruppo e poi abbiamo silvia botgan campionesse italiane dunque partiamo proprio da questa bella vittoria che avete conseguito proprio nei giorni scorsi virginia come si è arrivati a questo risultato bello la settimana scorsa le ragazze hanno partecipato al nazionale italiano di ginnastica aerobica aereo dance portando a casa finalmente il primo posto la medaglia d'oro esatto la coppa che vediamo la coppa che ha silvia nelle sue mani hanno lavorato c'è anche una quinta ragazza che non è presente questa sera che ha vinto ha vinto insieme a loro il titolo di campionesse italiane al momento si sta riposando al mare giustamente si chiama si chiama asia meraviglia facciamo i complimenti ad asia la salutiamo quindi buone vacanze asia ci sentiremo quando ritorni e partiamo subito proprio da due note sull'aerobica virginia che cosa è l'aerobica non tutti la conoscono allora l'aerobica è una disciplina che consiste nella realizzazione di una coreografia danzata diciamo una musica molto ritmata all'interno di questa coreografia le ragazze devono mostrare abilità di sincronia abilità tecniche quindi salti scioltezza potenza da qualche anno anche devono inserire elementi di acrobatica e tutto questo niente a ritmo di musica questa musica molto veloce cercando di trasmettere sempre più emozioni possiamo dire virginia che stanno ripercorrendo un po le tue orme sì anche io fino a qualche anno fa gareggiavo sempre nella categoria gruppo l'ho fatto per tanti anni e mi ha portato tantissime soddisfazioni e mi ha fatto crescere tanto nella vita non solo nello sport ma tutto il resto ecco infatti sentiamo proprio dalle dirette interessate le nostre protagoniste partiamo da martina martina quando hai iniziato a fare aerobica che cosa rappresenta per te l'aerobica ho iniziato a cinque anni e secondo me cioè è la mia vita aerobica perché comunque posso esprimermi e sono molto a mio agio anche con le mie compagne sentiamo le compagne allora Federica io invece ho iniziato a quattro anni e quindi ormai sono otto anni perché adesso sei grande hai già dodici anni e io ho iniziato più che altro per trovare dopo la scuola un momento in cui trovavo le mie amiche e compagne e per dimenticare magari i problemi che si avevano durante la giornata e anche io con loro mi trovo super bene e più o meno ormai una famiglia bellissimo sentiamo Beatrice io ho iniziato a tre anni e adesso eri piccolissima a tre anni proprio e anche io mi sento molto a mio agio con loro perché ormai ci conosciamo bene e niente è bellissimo fare la ginnastica eh sentiamo Silvia allora passiamo il testimone io ho iniziato a sei anni e anche io mi trovo davvero molto bene con le mie compagne e niente mi piace è davvero bello fare l'aerobica è come se fosse la mia seconda famiglia ma che bello e dopo questa carrellata di emozioni Virginia vedo anche degli occhi che diventano un pochino lucidi abbastanza le sto vedendo crescere giorno dopo giorno impegnarsi in qualcosa che tira fuori il meglio di loro ecco, questo è importante anche perché non è soltanto un discorso di risultati che poi arrivano come in questo caso ma anche un discorso di crescita tanto che loro l'anno scorso hanno fatto il salto di categoria sì e quindi è stata una prova del fuoco loro l'anno scorso sono dovute passare appunto dalla categoria delle più piccoline in gara a quelle tra gli 11 e i 13 anni e ovviamente erano le più piccole della categoria e hanno dovuto impegnarsi tantissimo quest'anno per riuscire a raggiungere le abilità tecniche e artistiche delle loro avversarie e l'anno scorso abbiamo faticato un pochino all'inizio per integrarci e quest'anno invece col duro lavoro sono riuscite a superare addirittura le loro avversarie fantastico tra l'altro duro lavoro dicevi Virginia anche perché Silvia quante ore di allenamento fate a settimana? facciamo tre giorni a settimana, tre ore, quasi tre ore ogni giorno accidenti, quindi è quasi un lavoro quindi c'è la scuola e poi c'è l'aerobica sentiamo appunto anche dalle tue compagne come si fa a organizzare la giornata fra scuola e impegni in pedana? è un po' difficile perché comunque io prima facevo il tempo pieno a scuola fino alle quattro e mezza e quindi tornavo a casa tutta di corsa e dovevo andare in palestra certe volte arrivavo anche in ritardo ma poco ritardo, pochi minuti però c'è mi sfogavo in palestra quindi ci volevo andare ecco si riesce a conciliare scuola e aerobica giusto? anzi tra l'altro spesso chi fa sport riesce ad avere anche dei buoni risultati sì infatti io mi impegno di più cioè da quando ho iniziato aerobica vado meglio a scuola perché visto che devo fare le cose più in fretta per non mancare agli allenamenti devo anche impegnarmi di più nelle varie materie si utilizza meglio il tempo, è così anche per te? sì, poi ci vuole molta organizzazione organizzarsi quando magari non si fa allenamento o tirarsi avanti con i compiti e così almeno riesci a incastrare gli impegni bravissime guardiamo proprio anche all'esercizio che vi ha portati all'oro al titolo italiano, vogliamo descriverlo, l'abbiamo visto anche dal punto di vista tecnico allora da qualche anno è sempre più importante l'interpretazione della musica quindi quest'anno abbiamo voluto la parte artistica diciamo sì, la parte artistica abbiamo voluto spingere tanto su quello la musica gioca ovviamente un ruolo fondamentale sia per quanto può emozionare il pubblico sia per il ritmo deve poter caricare l'oro in pedana per poter poi trasmettere quello che sentono e tutta la loro grinta e poi bisogna lavorare su tantissimi elementi quindi una volta la scioltezza una volta l'esplosività e pian piano lavorando tutti questi tasselli si arriva alla costruzione dell'esercizio è un esercizio che bisogna lavorare per almeno un anno per poter arrivare a questo livello certo, perfezionare ogni singolo movimento loro devono sembrare in pedana una cosa sola non si devono più vedere le singole atlete ma devono essere una vera squadra muoversi insieme sentirsi in pedana l'una con l'altra senza guardarsi bellissimo c'è spazio anche per i maschi? assolutamente sì purtroppo non è ancora frequentantissimo dagli uomini ma speriamo che prendendo esempio dai campioni mondiali italiani che abbiamo fortunatamente possano richiamare sempre più ometti all'interno di questa nostra disciplina anche perché è completissima tanti pensano che magari possa essere più adatta alle donne invece bisogna avere tanta forza tantissima forza e gli uomini in questo ne hanno da vendere bene, io vi ringrazio tutte per essere rimaste con noi ancora complimenti per questa bellissima coppa per le medaglie per il titolo tricolore e continuate così allora grazie grazie con questo è davvero tutto ci vediamo alla prossima con tutto Spor non mancate